E' da questo luogo così significativo che è il refettorio antico del convento dei Frati Cappuccini a San Giovanni Rotondo, un luogo che ha visto anche la presenza del Santo di Pietrelcina. Torniamo a collegarci con voi, amici di Padre Pio TV, salutiamo i colleghi che si trovano nei nostri studi e saluto davvero con grande affetto, ma vorrei proprio raggruppare, raccogliere tutto l'affetto dei nostri telespettatori, Padre Marciano, che quotidianamente chiamano in redazione per portarti i loro saluti, quindi io mi faccio portavoce, ti abbraccio anche se a distanza, ti do un bacio anche se a distanza, ecco, per via del periodo che stiamo vivendo e comunque ti saluto con il saluto di pace e bene. Oggi Padre Marciano ti chiediamo di raccontarci un episodio particolare, un episodio che però non mi sono inventata io, tu lo sai, io non sono così brava, devo andare sempre ad attingere dai tuoi libri, quindi questo episodio è riportato in uno dei tuoi scritti, un episodio raccontato realmente da Padre Pio che riguarda i quattro frati fuori dal purgatorio. Raccontaci che cosa è successo. Un fatto storico raccontato da Padre Pio a dei frati del convento e quindi c'è tutta una sicurezza della veracità del fatto, perché il racconto fu scritto, trascritto e conservato in archivio, quindi è un documento vero e proprio. In che cosa consiste questo episodio? Padre Pio scende al piano terra dove c'è il fuoco comune, c'è un luogo dove c'è il fuoco, il camino e d'inverno è sempre acceso e quindi i frati che vogliono riscaldarsi possono andare a fuoco comune, si riscaldano e poi magari vanno a riposare. Quindi Padre Pio dopo le cerimonie della chiesa, quindi in freddo rito, va a fuoco comune a riscaldarsi e trova già a fuoco comune quattro frati seduti vicino al camino. Si è rodato Gesù Cristo e nessuno gli risponde. Li guarda, li riguarda, ma... e c'hanno tutti il cappuccio in testa. E quindi non si rende conto. E allora si avvicina. Ma da dove venite voi? Ecco, cioè, rivolge qualche parola per vedere un silenzio assoluto. A questo punto Padre Pio si impressiona. Cioè allora questi sono anime del purgatorio e scappa, salenta tutta corso la scalinata e va nella camera del superiore. A fuoco comune ci sono quattro frati. E' comico, con la neve che ci sta fuori, ci sono quattro frati, scendono e non c'è nessuno. Questo è l'episodio. Che cosa ci dice questa realtà, questo fatto? Che le anime del purgatorio... Non è detto che la penitenza di correzione dei difetti della vita si fanno solo in purgatorio, ma molto facilmente si fanno nella realtà dove magari si è sbagliato. Affinché, prendendo, diciamo, visione di come uno ha sbagliato, sta attento a non sbagliare in appresso. Quindi questo è l'episodio. È chiaro che è un episodio un po' che lascia perplesso, ma è proprio tutto vero. Ma adesso, a prescindere se è tutto vero o no, l'episodio è raccontato da Padre Pio ed è catalogato e messo nell'archivio del convento di San Giovanni Rotondo. Ci teneva che si facessero le preghiere per la liberazione delle anime del purgatorio. E in modo particolare stava attento alle indulgenze plenarie e le indulgenze annuali, secondo la liturgia. E quindi, per esempio, il 2 agosto che si poteva lucrare l'indulgenza plenaria non per sé, ma per le anime del purgatorio. E quindi in tutte le chiese francescane c'è stato questo grande movimento. Quindi per due giorni la chiesa, notte, giorni, riameva aperta, e ogni fedele poteva entrare in chiesa, cioè tozze e scuozze, ogni volta che uno entrava e usciva, e poi rientrava, quindi ogni volta che ritornava in chiesa poteva lucrare una indulgenza plenaria. Non tanto per sé, anche perché per sé, una volta pulita l'anima, bastava una indulgenza sola, ma per l'applicazione alle anime del purgatorio. Questa è stata una grande spiritualità francescana, voluta proprio da San Francesco, francescana, e che Padre Pio ha tenuto caldamente a portata avanti. Grazie per questo bel racconto, grazie davvero per aver voluto condividere con noi anche questi ricordi, questi aneddoti. Appuntamento a domani e mi raccomando puntuali, sempre all'interno del nostro contenitore dedicato alla festa di San Pio. Grazie a Padre Marciano per essere con noi in questi giorni. Ti saluto, così come saluto i nostri amici telespettatori, la diretta di Padre Pio TV prosegue. Li salutiamo, Padre Marciano, con il saluto di pace e bene. Pace e bene.